Buonasera mister. Dispiaciuto non essere passato da primo nel girone? Beh, la cosa più importante era passarlo questo girone, è stato un girone che abbiamo gestito bene, lo abbiamo giocato bene, con coraggio, con personalità e alla fine abbiamo meritato la qualificazione. Credo che passarlo come secondo è un po' più complicato, sarà un ottavo di finale più complicato, ma l'importante è stare nell'ottavo di finale. Ciao Carlo, mi interessa sapere il tuo stato d'animo. Sono contento perché, come ho detto... Al di là della partita. Sono contento perché abbiamo... No, diciamo in un periodo di magra abbiamo ottenuto un risultato importante, e questo spero che possa dare un impulso alla squadra a fare meglio anche in campionato. Credo che abbiamo speso molte energie in questo girone di qualificazione, giocando contro squadre che a livello di intensità tra le top in Europa e quindi il mio stato d'animo è che sono contento che abbiamo passato il turno. Canale 21 e poi... Perché solo chi passa il turno può vincere la Champions. Buonasera Carlo, ieri in conferenza stampa dicevi se ci sono segnali dal campo bene si può continuare, se non arrivano questi segnali è meglio chiuderli qui. Allora io ti chiedo, i segnali che ti aspettavi per restare sono arrivati? Sì o no? No, sì, ho visto una squadra attenta, ancora non sciolta come dovrebbe nella costruzione del gioco, però siamo stati efficaci, abbiamo sfruttato molto bene il rientro De Mili che ha dato una mano importante alla squadra, ma tutti hanno dato il loro contributo. Non è stata una partita eccezionale, ma a livello caratteriale la squadra era preparata. Ministro, buonasera, questa sera il San Paolo è tornato a applaudire dopo mesi, ma soprattutto ha applaudito lei? Io non ho nessuna decisione da prendere, non ho nessuna valutazione da fare, se non quella con il Presidente che deciderà se, in base alle sue indicazioni, se si può andare avanti oppure no, non è che ci sono molti altri discorsi da fare. Le ha fatto piacere comunque? Le ha fatto piacere? No, molto, molto, soprattutto diciamo che la tifoseria è ritornata a stare vicino alla squadra, quello è stato sicuramente importante, ma come sempre dipende tutto da noi, se i giocatori mostrano attaccamento, i tifosi sono della tua parte. Lei ha salutato i tifosi in tribuna andando via? C'è un messaggio diciamo? No, ho salutato mia moglie. Ok, va bene. Bene, allora le sembra, le faccio una domanda. Spero di trovarla a casa stasera. Una domanda. Ci sarà sicuramente. Diciamo, le sembra normale essere in bilico dopo un 4-0 in Champions della qualificazione? No, no, insomma, non è che... Il fatto di essere in discussione è assolutamente normale, fa parte di questo mondo, la squadra, come avete scritto tante volte, ha avuto un rendimento negativo nel campionato. Niente da dire nella Champions, ma il campionato è stato, proprio per quello che abbiamo fatto in Champions, deficitario. Inizulated Gela Inizieri Carmi Niente Inizieri Grazie a tutti.